Cambia destra, sinistra, cambia o cazza. Tocco! 21-20! Grandissima vota, mazzolana, complimenti. Occhio c'è uno dei due che è molto nervoso, sfrutta la stagolta. Un 7-0! Versini battuta, la cosa che mi fa morire Verzeletti è che batti arrotato e attacchi flottante. E' questo che mi fa impazzire. 21-20! Match point, Bersini! C'è uno! 21-20! E' una ribattuta vostra! Caro, ho anche lasciato la macchina fuori nello stadio di merda. Passione a rete! 22-21! Battuta, mazzolana! Vai! C'è il banco, Matt! Ok! C'è il banco! C'è il Franco! Tu margina il banco è qui ma a nomi! C'è il banco, rivi!